Stavo pensando, ma se alla nostra prossima festa a Popcorn Riffini invitassimo Christian Bale? Oh, fermo, fermo. Christian Bale, l'amore, totale. Perché a me mi ha telefonato l'altro giorno. Quasi come Liam Neeson. No, no, non lo dico e poi Liam, eh, Liam si arrabbia. No, amore... Sai che fa Liam si s'arrabbia? No, no. Ti telefona. L'amore per Liam è... Se tu non mi ami io ti troverò. Che ansia. Tranquillo Liam. Però la mia stima per Christian Bale è... Diciamo che è un gran figo, lo possiamo dire, che è un gran figo. A me mi ha telefonato, mi ha detto che se fosse omosessuale mi butterei su Christian Bale. Lui terminerebbe però. Secondo te? C'avrei qualche chance, perché sono single. A lui gli piace la zizza. Ho capito. Però a me mi ha telefonato. Però io lo svolterei perché c'hai i sordi, capito? Mi ha detto che lui c'ha praticamente... Gran bestemmiatore, non so se ti piacciono gli uomini che bestembliano. Rutta. Rutta e bestemmia. E lei che è il colpo santo. Colpa di Terence Malick, l'ultimo film che hanno fatto insieme, l'ha fatto sbroccare e quindi bestemmia ogni chacca. Lui praticamente c'ha quattro settimane libere perché si deve ingrassare 78 kg per il prossimo film. E nel frattempo che mi ingrasso, invitatemi alle feste che mangio con le pizzette. No, io se lo devo invitare è come nel film che ha presentato al Festival di Roma. Secco secco. No, c'ha dei muscoli allucinanti. Ah, muscolo. Comunque io potrei fare outing solo per due persone. Per Christian Bale? Per Christian Bale e... Liam Riso. Ah, pensavo per Gino Paolo. Però sempre è il primo posto Liam. Per Maurizio Gasparri no? Nell'alto dei cieli Liam ci guida. Per la russa che ti guarda e ti grida CURATONE! Quindi anche la russa è un bestemmiatore come Liam? Eh, non è come Christian Bale? Sì, certamente sì. Liam è bestemmiatore. Beh, Liam può pure bestemmiare. Ma se bestemmiano tutti? Dobbiamo rientrare. Ma bestemmi se stesso, no? Dai, dai, che entriamo. Ciao, ciao.